è bella a tutti ragazzi in questo nuovissimo video io ho appena iniziato la mia passione per il youtube per youtube e appunto mi raccomando lasciate un like al video e iscrivetevi al canale e mi raccomando attivate la campanella delle notifiche se arriviamo a 150 like di questo video vi porterò un video di rocket invece se arriviamo a 200 like vi porterò un video di fortnite ok ok io direi di iniziare con un gioco brawl stars io vorrei giocarci però adesso vi faccio vedere cosa succede noi entriamo qua però non mi fa entrare e questo qua è un problema che risolverò più avanti però state tranquilli che questo comunque è un problema che io risolverò allora io direi di iniziare con mister bullet crazy kick e draw wii e poi wii wii vabbè lì com'è che si chiama quello lì con tutte le armi e invece hide online ci andremo a giocare in un prossimo episodio ok io direi di iniziare con mister bullet vediamo su tutti i giochi che ho installato allora non proprio tutti ci ho un po giocato per appunto provarli e sapere un po come giocare però sì comunque ci ho giocato un po per sapere come giocare allora continuiamo ok questo è un livello abbastanza molto easy molto easy alla prossima lo compriamo ok guardiamo l'annuncio e no non voglio granate proviamo a far così bene bene ok uno è morto uno è anche l'altro è no fai dovrei fare così ok in un colpo anche e scarico allora non ho l'audio perché ho già fatto delle prove ma si sente stra tanto casino e non si sente mai parlare quindi magari possiamo alzare un po così così va bene penso ok penso che vado bene allora facciamo cadere questa che li ho uccisi tutti e due e poi facciamo così cadiamo questa ah quello li sono fiammiferi per ora no sempre con queste pubblicità comunque ci vediamo quando è finito ok adesso guardo se riprende ho sparato un colpo a caso vi giuro ma lui è morto comunque ok secondo me dobbiamo fare tipo ok ho sbagliato ho già perso il livello dobbiamo farlo quando quella tocca lì ok è morto abbiamo schiacciato male male no 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 grazie spariamo ecco oddio ok spariamo qua ma dai ok è abbastanza bello questo gioco che è un ladro questo penso di sì quando sei fermo diventi una una pianta qualcosa un oggetto invece quando ti muovi e vai vicino a una guardia l'ammassi completamente faccio guarda così ok uno morto e l'altro mori sì o no ho sentito beh continuiamo a fare così e gli esplode male però no e bazooka io ce l'ho già quindi no thanks e loro volevano uccidere me però dopo hanno visto che era troppo piccolo il buco e quindi non c'è passato allora ci hanno invertito io dovrei essere stato su quello più grande e invece l'altro che almeno non rischiavano allora cavolo così ok perfect perfetto dai devo farlo in un colpo no questo qua lo voglio rifare perché lo voglio fare in un colpo tipo faccio così è troppo alto devo puntarlo tipo qua così bo 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 cavolo ancora più basso tipo qua niente no dai ragazzi io questo lo voglio fare in un colpo eeeh mamma mia vedo un po' di tentativi per uuuuh contro una bombi questo qua lo facciamo esplodere che l'evo qua fa esplodere eeeh vabbè allora mamma mia c'è non ci ha fatto ma ci ha fatto l'insalata quello lì ok da quanto è che sto registrando sette minuti non male non male allora 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 allorissima dai perchè è tutto nero oh è tutto nero no 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 eh ok dai adesso va bo ok continuiamo diciamo spesi bene e lui muore ma il zombie non muore perchè non muore che goduria guarda che goduria ma l'ha schiacciato oltre ok dai la prendo però ci vediamo quando è finito tutto l'alloccio ok ragazzi io ho pensato che siccome questo qua è uguale all'altro è uguale identico però è anche più più bello eeeh basta è anche più bello e quindi io sai cosa sapete cosa faccio faccio così faccio così faccio disinstalla ok e andiamo a ritrovare eccolo del super hero dig che è molto bello anche questo poi aspettiamo dai ok questo qua possiamo aspettare che non ci metterà di scuro cioè ci metterà di scuro poco ok è a 13% il mio telefono è installati ok e giochiamoci 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 e ve l'ho detto che è praticamente la stessa roba ok questo qua è stra bello ok questo lo so mamma mia ma è stra bello ti lancio via è troppo è troppo è troppo più bello questo però ok io prendo lui ho lanciato malissimo addosso non mi servono i fucili a me sei super hero ho sempre un colpo penso lo lascio cadere super hero 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 non è bello cioè non so neanche se è bello questo lo proveremo lo proveremo la prossima volta allora dai perché non va oh ok ok prendiamo questo portarlo qua e lanciarlo con i due ma non è stra ma sarà un botto più bello questo c'è anche un po' più easy ok non devi fare così schiacciato però va bene prendo questo prendo questo ok ma dai ma ne vedono uno sempre più bello cioè guarda qua non so io però però questo qua non lo installiamo perché è molto più bello anzi la prossima volta dovete scrivere nei commenti dovete fare uno spam di gg se volete quel gioco la che abbiamo appena visto ok li facciamo così e oh hai visto quanto si è divertito c'è solo che facciamo così e la lanciamo in aria e cade ma e non è più venuta e beh basta solo facciamo così ma è morto bam ma perché ne è morto solo ah si ho capito voglio farla tipo cadere ok andiamo a farla cadere da più in alto ok ok oh ok 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 Allora perché non va? Dov'è quello che puoi spegnere il coso qua il video? Oh ok, ecco, continuiamo, prendiamo questo e lo schiacciamo così, così, ok? Così, ok, prendiamo lui e lo facciamo cacchiera, ok? Ok, lo facciamo penzolare un po', ok? Lo facciamo così, lo facciamo così, lo facciamo così e lo schiacciamo. Ma dove è andata la ruota? Ok Allora Andiamo avanti Non voglio questo ma andiamo avanti Ok, 4, 1, 2, 3 Questo lo schiacciamo malamente E un po' 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 e un po io direi ora di cambiare gioco perché è già da 15 minuti ragazzi e andiamo su drawi cosli ok qua bisogna tipo disegnare poi l'arma diventa più bella tipo cioè qua bisogna adesso vedete allora qua c'è il caricamento va bene dopo qua qua bisogna disegnare un'arma anche se la disegnate male anche se fate tipo così lui vi campisce un'arma ok ok noi tiriamo fuori sto sgorbio e diventa due foglie lui ha un uomino di ammunguse però io con le foglie visto che lui è debole io lo posso massacrare facendo così così adesso non lo faccio più cadere no non ci credo oh yes oh yes ballo brutto ci sta sempre ok facciamo così è al 9 per cento quindi questo gioco appunto durerà di meno perché anche scarico vabbè semmai mi prenderò dopo il carico allora ok io attacco quindi mi piace di più attaccare quindi no no a me piace lanciare anche ok vediamo il bonus clam ok mi sono preso questo poi qua no con la magliettina ovviamente questo scarpe occhiali occhiali cappello certamente certamente rossa un ammunguse ok e poi facciamo un amor un coso brutto un coso brutto qua ottimo ah c'è l'inchiostro limitato ah l'amunguse è bello vedi eh non vuoi fare contro di me eh il mio ammunguse guarda 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 ma è lento attaccare l'amunguse guarda 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 è grasso l'amunguse guarda ok poi andiamo avanti guarda guarda allora vediamo quanto manca 9% ancora dai penso che possa abbastare ok dai cosa che posso sicuramente devo giocare dai cosa che devo fare questo e adesso perché non mi fa andare mamma mia quanto ci mette e dobbiamo aspettare mamma mia adesso ci vediamo quando è finito non lo so ragazzi non finiva più quindi io ho riavviato cioè non finiva più non so 8 per cento allora io direi di fare un round qua ancora non ando perché proprio perché c'è il telefono scarico e dopo possiamo anche cambiare gioco faccio un po' così ecco è un gelato è un gelato guarda non è gelato no è un mazzo di fiori si è capito si è capito lui ha una gamba venne qua ciao 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 ok ok questo finisce ok finisce ok no thanks un'arma è brutta è questa arma però lui la capisce comunque stranamente però lui capisce lancia fiamme che non lancia fiamme e lo lancio io e lancia e brucio eh ma adesso io voglio che vengono qua chi è? è venito ad attaccarmi non hanno ancora eh che era? chi è? ok la memoria interna è insufficiente una rana questo diventa una rana ok saltiamo perché questo non lucce perché mi fa abbastanza schifo allora andiamo uno stura lavandini però io vorrei fare tipo una persona ok vediamo se va vedete penso che basti è brutto è brutto si capisce che è una persona non è vero ma quella lì secondo te è una roba del genere cioè basta c'è guarda adesso io cosa faccio guarda te la lancio e attacco aia watcha 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 e te la lancio e ti è andiamo avanti e andiamo avanti e andiamo avanti avanti oh ok ok adesso direi io di cambiare anche il gioco perché ha 6 di batteria ok penso proprio di andare a prendere il caricabatterie ok ok io l'ho messo in carica adesso penso che si veda lì in alto a destra in alto tutto a destra ok no questo ma l'abbiamo appena fatto dai devo cambiare devo prendere crazy kick devo mettere crazy kick dopo di che abbiamo finito questo è un altro gioco di calcio che a me piace un sacco ragazzi sono stra appassionato io vorrei portarvi anche un video io gioco in una squadra del calcio ovviamente Union Cus e e e e e e e boh vabbè io gioco in una squadra ufficiale del calcio cioè Union Cus e faccio portiere ok io faccio portiere quindi io sono curioso cioè io vorrei portarvi un video appunto che mia mamma mio papà mio zio mi faranno dei tiri ehm sono abbastanza bravo tac tac ok si è buttato lì eh mi faccio fare fallita ah non ce ne sono più pettato ok io mi accompagno in porta non sapete qual è il mio un specie di finta diciamo allora aspetta qua è un livello di prendere monete prendo queste sotto poi prendo anche quest'altro adesso tiro in alto in alto ho detto in alto in alto in alto no dentro la porta non ho capito come bisogna farlo ragazzi ok dai presto muoviti facebook facebook ok continuiamo continuiamo con il nostro video gioco vola 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 l'ape maia papapam oh ma dai ma è illegallo sto robo c'è adesso la mia tattica stavo dicendo quella di far cadere tutti a terra per terra tutti per terra e e e e non farci prenderlo adesso adesso basta non mi prendono non mi prenderanno mai papà ma mai mai ok andiamo avanti viviamo a 30 quindi altri 2 minuti poi ci possiamo vieni qua che tu dai unisciti alla mischia quindi vado avanti così e così devi venire fuori anche il portiere però eh cioè anche tu devi venire fuori no mi hai potuto salvare vabbè ok via questo di qua tu vieni qua e via questo di qua via poi tu via poi anche tu potresti andare poi anche tu e vieni tu no vieni ok e questa è la mia tattica facciamo l'ultimo round di questo dopo ragazzi noi io dovrei anche posto parla la registrazione perché sto facendo il video troppo lungo e sinceramente anche molto troppo lungo e basta arriveremo 30 poi ok 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 vai continuiamo continuiamo con il nostro taggito attenzione il front il fantasma che è robot puiol no dai deve uscire basta ok chest room noi prendiamo questa 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 e che schifo dai però vabbè io vi invito ancora a iscrivervi al canale lasciare like al video e attivare la campanellina delle notifiche noi ci vediamo a un prossimo video ciao ragazzi